E polpo di scena alle elezioni europee per quanto riguarda i risultati del nord Europa, che il nord Europa e i paesi nord europei che votano, che sono la Danimarca, Svezia e Finlandia, e che ammetto non mi aspettavo nemmeno io. Perché? Cos'è successo? Cos'è successo? Beh, in un'Europa in cui ha vinto praticamente ovunque l'estrema destra, invece in Danimarca, Svezia e Norvegia, no, Norvegia, Svezia e Finlandia, hanno vinto... Purtroppo la Norvegia non fa ancora parte dell'Unione Europea. Non ufficiale. Hanno vinto invece partiti più green, soprattutto... Sono gli unici paesi dove i verdi hanno avuto dei risultati soddisfacenti, e in particolare i partiti centrosinistra. Quindi sarà quello ovviamente... Questo è il tema principale di questo nuovo episodio di chiacchiere da fiordo, ma non solo. È un vero colpo di scena che abbiano vinto i partiti più a sinistra e più verdi nel nord Europa. Lo vedremo dopo. Parleremo però anche dell'estrema destra. C'è un movimento, diciamo, neo-nazista che è stato classificato come terrorista. Ma ne parleremo dopo. Adesso... La sigla! Benvenuti a Chiacchiere da fiordo, con la J perché ci piaceva così. Volevamo evitare la parola fiod, tipica delle lingue scandinave. Questo è il primo podcast di Nolan. Ogni settimana cerchiamo di raccontarvi quello che succede da queste parti per farvi capire che i pazzeri e i rifi sono anche qui. L'hai lanciata bene questa volta, stai migliorando. L'altra volta la lanciavamo male? No, no, beh, la lanciavi comunque in un modo decente, però c'è un miglioramento. Ah, ok, quindi finalmente al ventesimo episodio riusciremo a lanciarle in modo... Come si dice, consono. Ma vabbè, abbiamo molto da parlare oggi, no? Perché comunque le elezioni europee continuano ad aver, diciamo... Cioè, hanno cambiato molte cose. Pensiamo a quello che è successo in Francia, che hanno addirittura fatto cadere l'assemblea. Cos'è... Il Parlamento, se non parlano... Ha fatto sì che Macron scioglieva il Parlamento. Abbiamo visto in Germania addirittura i risultati di Alternative Deutschland che, nonostante i recenti scandali, comunque si è piazzata a seconda. Poi partiti tradizionali di centro-destra. Abbiamo visto in Italia, che tra i paesi grandi è stata quella un pochino più moderata, diciamo, che sì, c'è stato il triunfo di Fratelli d'Italia, ma anche il Partito Democratico comunque non è andato male. E poi ci sono i paesi nordici, che invece hanno, curiosamente, hanno avuto un risultato opposto. Quindi mi viene a dire che c'è l'Europa, centro-meridionale, e poi c'è la Scandinavia. Hanno, diciamo, sono due risultati totalmente, totalmente opposti. Allora, sì, sì, è vero che nel senso rispetto a come se ne parla, soprattutto nei paesi più grandi, nei media internazionali, sembra che ci sia stata questa ondata di destra in Europa, ma in realtà riguarda solo alcuni paesi, in particolare Francia e Germania. Sono questi i paesi dove c'è stato un boom della destra, estrema destra. Negli altri paesi, più o meno, i risultati sono stati come nelle elezioni precedenti, o, come nel caso invece dei paesi nordici, c'è stata addirittura un'avanzata della sinistra. Esatto. Però diciamo che, essendo questo triunfo stato nei due paesi più grossi, ovviamente questo va poi a modificare notevolmente il... Ma no, notevolmente comunque va a modificare un po' il Parlamento, gli equilibri del Parlamento europeo, no? Se pensiamo che Macron ha perso molti voti e è andato a togliere la maggior parte dei seggi a Renew Europe, comunque... Chiaramente non si parla di un Parlamento europeo spostato tutto a destra, non è quello che è successo, però comunque è stato... Sono stati un po' ridefiniti alcuni equilibri, per quanto poi alla fine il Parlamento europeo sia rimasto più o meno quello che era prima. Sì, esatto. Cioè, alla fine il gruppo che viene più colpito da queste elezioni è Renew Europe, diciamo il gruppo di centro dei liberali, dove in Francia c'è Macron, dove nel nord Europa ci sono appunto i partiti centristici, c'è Venstre, in Danimarca, in Italia abbiamo più Europa, Italia vive azione. Quello è stato... Che non sono stati letti. Questo è il gruppo più colpito, diciamo, che diminuisce di più il suo numero di parlamentari, gli altri più o meno sono rimasti... Sono rimasti di cresce un pochettino la destra, ma il Parlamento europeo che ne esce non è molto diverso dallo scorso Parlamento, quindi verosimilmente si arriverà ad avere una politica, una commissione guidata forse ancora da Ursula von der Leyen, si vocifera, e comunque delle politiche europee che non saranno molto diverse da quelle che abbiamo visto negli ultimi cinque anni. No, esatto, esatto, poi bisognerà vedere come cosa succederà, insomma, come andrà a rifinirsi la nuova commissione. Parlando dei paesi nord europei, diciamo che abbiamo visto una conferma di quello che dicevamo l'altra volta, se prendiamo il caso della Danimarca, è l'unico paese europeo, anche vedendo i risultati di queste elezioni, dove la politica non si è splittata, o troppo destra o troppo sinistra, ma per quanto i partiti di centro-sinistra abbiano preso più voti, subito dopo ci sono i partiti centristi, unicum in Europa, dove la destra addirittura li ha persi e ne ha presi molti di meno i partiti più a destra. Se guardiamo invece la Svezia e la Finlandia, soprattutto la Svezia, invece, vediamo che il dibattito si è più polarizzato, per cui anche in Svezia i partiti di centro sono quelli che hanno perso più voti. Poi, in Svezia, le mie stesse considerazioni che avevo fatto, se volete vederlo, il video sulle elezioni europee in Svezia, alla fine i socialdemocratici hanno trionfato, sarebbero partito, e seguiti dai moderati, che sono il partito, diciamo, di maggioranza della coalizione al governo. E quelli che hanno perso, diciamo, che sono andati sotto le aspettative, sono stati proprio gli Svezia e Democra-Terma, che hanno tenuto meno voti, sia delle nazionali del 2022, 22, sì, anche delle ultime europee, con un 13%, addirittura sono quarto partito, se non ricordo mai, non so più. Sì, 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 sono stati superati anche dai Verdi. Esatto, che erano quelli che avevano fatto cadere il governo. Esatto, diciamo che il governo precedente all'elezione del 2022 era sostenuto proprio dai socialdemocratici dai Verdi, i Verdi li avevano fatto cadere, se erano andati alle elezioni, i Verdi erano crollati, penalizzati, puniti da questa cosa, quindi si è formato un nuovo governo di destra, che adesso è in carica, eccoci qua. Sì, la vera sorpresa della Svezia è proprio questo, il fatto che i democratici svedesi non si erano andati bene, penso che erano andati in ascesa in tutti i sondaggi, dalle 2022 in poi erano sempre andati in ascesa, come uno dei partiti principali del Paese, invece sono scivolati in quarta posizione, superati addirittura dai Verdi, e anche questo è interessante, perché mentre nel resto d'Europa i Verdi calano, tendenzialmente, a parte alcune eccezioni però calano, in Germania ad esempio c'è stato un crollo, nel nord Europa, in Francia c'è stata una debacle dei Verdi, che invece andavano sempre bene, se alle elezioni nazionali non brillano di solito i Verdi, alle elezioni europee, ultimamente perlomeno andavano molto bene, in Francia invece questa volta sono andati male, invece nel nord Europa hanno avuto dei risultati superiori, alle ultime volte, nel caso della Svezia, dove hanno recuperato rispetto alle politiche del 2022, ed è il caso anche della Danimarca, non propriamente i Verdi, però comunque la sinistra verde, il Social Social Party. I Socialistri e Social Party, che sono un po' di oltre. Quindi diciamo il Partito Socialista del Popolo. Il Partito Socialista si può tradurre solo come Partito Socialista, o sarebbe un Popolare Socialista, ma poi... Eh sì, Popolare Socialista, ecco, quindi è più a sinistra dei Socialdemocratici, che è stato il primo partito. Ha detto che è stato un sorpasso storico, perché, insomma, soprattutto per quello che dicevo, no, di solito la Danimarca, alle elezioni europee, vota sempre a destra, rispetto a quello che vota le nazionali, vota sempre... Cioè, Mestre, per esempio, nel 2019, era stato il primo partito, invece in questa elezione addirittura è crollato, è quinto, non ricordo più, ma... È terzo, è terzo, però ha perso due seggi, ha dimezzato i suoi seggi. Ha dimezzato i seggi, e questo per quello che avevo detto sempre nel video, avessero fatto una serie di certe sbagliate negli ultimi anni, per cui è stato penalizzato, ma è interessante che in Danimarca c'è stato il primo sorpasso storico che ha penalizzato le politiche sempre meno progressiste, sempre meno a sinistra, dei Socialdemocratici, per cui addirittura l'SF, quindi Socialistice School Party, è diventato il primo partito. E questo, secondo me, allora, è difficile che vedremo in Danimarca un risultato simile alle prossime nazionali, sia perché di solito i danesi tendono a votare molto diversamente alle nazionali e alle europee, ma anche perché i, diciamo, gli SF sono stati favoriti alle europee dal fatto che alle europee possono votare anche agli altri cittadini europei, come è sottoscritto, io non ho cittadinanza danese, non posso votare nazionali, ma posso votare, volendo, per i partiti danesi e le europee, quindi probabilmente questo un po' ha influito, però in generale è un segno di apertura nei confronti dei danesi, soprattutto giovani, che effettivamente magari vogliono delle politiche europee un po' più orientate al verde e a quanto pare non sono soddisfatti delle politiche anche legate alle immigrazioni, comunque a altre politiche che invece hanno portato avanti finora a Vestre e i socialdemocratici. E tra l'altro anche in queste elezioni si conferma un voto un po' differente nelle varie regioni e isole della Danimarca, ne parlavi, ne parlavamo anche in un video sul canale quello delle reclutazioni ultime. La divisione rimane ancora abbastanza netta, però se alle ultime elezioni lo Jutland era praticamente tutto di Vestre adesso è anche tutto a Schelland a parte Copenaghen. In realtà adesso è cambiato e c'è stato un ritorno della sinistra. Per vedere la mappa che mi hai condiviso diciamo che Socialists for Parties e socialdemocratici hanno trionfato nello Jutland settentrionale e orientale nonché in tutta l'isola di Schuhn nonché in tutta l'isola di Schelland salvo qualche circoscrizione mentre diciamo Venstre rimane ancora molto forte nelle regioni un po' più rurali che sono il Sondro e lo Jutland meridionale e lo Jutland occidentale che appunto sono quelle magari un po' più storicamente conservatrici. Però appunto anche questo è interessante. Ripeto non so se avremo la stessa divisione alle prossime nazionali sicuramente Venstre a meno che non sia in grado di rifarsi un nome in questi prossimi anni non avrà lo stesso successo che ha avuto prima però è interessante vedere come la Danimarca sia un caso veramente eccezionale da questo punto di vista e lo si spiega anche per diversi motivi. Da una parte il triunfo degli SF si deve anche a una leader carismatica che al momento non mi ricordo come si chiama ma poi lo mettiamo in sovraimpressione magari in nome ma dall'altra anche al fatto che comunque in generale in nord Europa la crisi migratoria è meno sentita rispetto a paesi come l'Italia la Francia e la Germania primo perché i paesi nord europei non sono paesi di primo approdo ma questa in realtà neanche la Germania ma è un'altra storia ma soprattutto perché di base le politiche migratorie nei paesi nord europei sono già molto restrittive cioè è già di base molto difficile anche la Svezia gli ultimi misure migratori di Svezia già dei social democratici avevano reso più difficile entrare in Svezia rispetto al passato alla Danimarca ne parliamo forse quello più complicato e la Finlandia pure comunque sono paesi che per diversi motivi e lo sappiamo bene in Danimarca che i social democratici fanno delle politiche diciamo molto severe per la migrazione il loro cavolo di battaglia quindi questo e soprattutto hanno anche delle politiche di integrazione molto severe lo vediamo in Danimarca dove diciamo hai il corso di danese gratuito e non è obbligatorio ma quasi per diciamo per ottenere la cittadinanza insomma per diverse cose e questo atteggiamento queste politiche questa tendenza è un po' trasversale a tutti i partiti o almeno a tutti i principali partiti non solo quelli di destra quelli conservatori quelli nazionalisti ma anche li abbiamo detto anche in diverse puntate ormai anche i social democratici in Danimarca di centro-sinistra hanno delle politiche molto rigorose per quanto riguarda l'immigrazione quindi è una cosa molto trasversale esatto e questo diciamo se rende complicato per chi si trasferisce diciamo trasferirsi anche da un paese europeo all'altro dall'altro canto il successo se così vogliamo è che crea meno la Svezia è un caso un po' più particolare però in Danimarca e Finlandia crea meno crisi sociali che invece si stanno verificando soprattutto in Francia e in Germania questo un po' indebulisce quelli che invece sono i cavalli di battaglia che hanno invece partiti più di destra nel sud Europa ma anche in Olanda per dire l'Olanda è l'altro paese forse quasi simile all'Italia perché ha vinto diciamo il partito mi sembra ricordo male più a destra quel massimo la sinistra è arrivata un po' come in Italia il partito di sinistra è arrivato secondo non è stato un caso grave come altri paesi il caso più grave tra virgolette grave nel senso una delle opinioni della vittoria della destra è la Francia che però anche qua va letta molto adesso poi ha più di una parentesi sulla Francia perché in Francia non ci sono i fiordi per cui non so quando fai delle chiacchiere provenzali magari allora la Francia però anche lì in Francia è stato raccontato come un grandissimo successo della destra che ha sconfitto Macron però se andiamo a vedere i risultati sì la Le Pen ha preso il 30% e Macron è crollato al 15% ma i socialisti e la sinistra sommati fanno il 21% quindi in realtà il crollo di Macron non è dato dall'ascesa della Le Pen ma dal fatto che è tornata la sinistra in Francia alle ultime elezioni era un po' un o ti becchi la Le Pen o l'unico argine Macron e quindi anche tutti un po' i moderati di sinistra avevano votato Macron per evitare la vittoria della destra adesso che la sinistra in Francia comincia a riacquisire un po' di credibilità dopo gli ultimi governi che avevano fatto con Hollande ormai quasi dieci anni fa adesso Macron deve un po' fare i conti col fatto che non ha soltanto un competitor ma ci sono tre opzioni sulla piazza ma infatti è quello che ci diciamo prima è stato un crollo dei partiti di centro un po' in tutta Europa ripeto a parte la Danimarca dove i Liberal Alliance che sono un partito di centro liberale hanno avuto anche nuovi seggi diciamo è stato uno dei partiti più in crescita dopo gli SF ma anche negli altri paesi nordici sia in Finlandia che in Svezia sono i partiti di centro ad essere cronati ma l'abbiamo visto anche in Italia da noi c'è stato ovvero un trionfo di Fratelli Italia ma c'è stato anche uno dei migliori risultati del PD degli ultimi anni dieci degli ultimi dieci anni e che è crollato sono stati quelli di centro quindi e anche un vuoto di AVS che conferma questa tendenza esatto AVS è l'azio per il sinistro sì 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 diciamo che anche questo è un dato che non deve stupire più di tanto perché la tendenza politica negli ultimi anni è quella verso la polarizzazione anche qua c'è stata un'unica eccezione in Europa a questo che è la Danimarca perché dopo le ultime elezioni invece che formarsi un governo o tutto di sinistra o tutto di destra si è formato un governo di supercentro dove c'è il centro-sinistra il centro-destra e il centro-centro cioè i moderati che sono il nuovo partito che deve essere di supercentro quella è stata l'unica eccezione questa convergenza verso il centro perché in tutte le altre elezioni che si stanno svolgendo negli ultimi anni è una tendenza che già si vedeva pre-covid ma post-covid è ancora più accentuata è una polarizzazione le persone sono o di destra o di sinistra e sono marcatamente di destra o marcatamente di sinistra ancora qualcuno di centro c'è qualcuno che vuole rimarcare che è di centro-sinistra e di centro-destra pochi sempre meno le persone tendono a polarizzarsi o di qua pochi di là esatto e in questo caso vediamo anche un altro caso diciamo dove il centro è andato bene che è la Finlandia perché il primo partito è stato il partito di coalizione nazionale io scusate non lo so pronunciare in Finlandia dove ha guadagnato diciamo un seggio è stato il primo partito con il 24% e subito dopo comunque abbiamo l'alleanza di sinistra che anche qua diciamo deve il suo successo il fatto che tocca alcune tematiche molto care ai giovani che hanno perso i partiti di sinistra tradizionali e anche qua VAS cioè l'alleanza di sinistra ha una leader molto carismatica diciamo che il successo dei partiti di sinistra verde come Socialist Full Party in Danimarca in Svezia e in Finlandia si deve ha fatto piano tutti tra l'altro leader donne e tra l'altro tutte molto carismatiche quindi riescono quello che manca un po' magari alla sinistra in altri paesi riescono a coinvolgere le persone e ad andare a puntare a quello che quelle persone vogliono quindi specialmente in Nord Europa dove il tema della natura è molto sentito e tra l'altro l'abbiamo visto in Danimarca addirittura anche i partiti di destra come il Conservatio o Folk Party mettevano per un'Europa più verde come slogan quindi sono tematiche quelle legate alla crisi climatica molto sentite in Nord Europa che riescono ad andare a colpire le persone in particolare o i delusi dai tradizioni dei partiti sinistri in Finlandia tra l'altro dicevi Lee Anderson che è la leader dell'alleanza di sinistra è la vera rivelazione diciamo di queste elezioni in Finlandia perché il suo partito con la sua leadership è passata è passato dal 6% al 17% nelle ultime elezioni aveva preso il 6% adesso ha preso il 17% e anche lei stessa che era candidata direttamente a queste elezioni è quella che ha preso la maggior parte delle preferenze se pensiamo che il suo partito ha preso circa 300.000 voti che in Italia sembrano poche però siamo in Finlandia bassa se il partito ha preso 300.000 voti lei solo come preferenze per sovanni ha preso più di 200.000 quindi vuol dire che quasi due persone su tre che hanno votato quel partito hanno proprio scritto il suo nome e volevano che lei fosse eletta quindi effettivamente c'è anche un successo personale di questa sua leadership come dicevi tu femminista verde di sinistra diciamo re della Finlandia e tutti questi paesi comunque nonostante anche in questi paesi ci sia stato un aumento e l'abbiamo visto di polarizzazione soprattutto in Svece ma anche in Finlandia comunque sono paesi che fanno di queste battaglie e di queste tematiche la loro roccaforte comunque sono tematiche a cui sono molto legati e sicuramente spingeranno loro per queste tematiche per portare avanti queste tematiche in Europa ovviamente sono paesi che hanno un peso politico minore rispetto a quelle che possono avere l'Italia la Francia la Germania in Unione Europea ma sicuramente quando si tratta di Green Deal o queste cose sono paesi che spingono molto forte da questo punto di vista e lo vediamo anche da quello che sappiamo sono paesi molto avanti per il rinnovabile sono paesi molto avanti per l'adozione di veicoli elettrici insomma sono tutte cose che sappiamo molto bene tra l'altro una cosa interessante interessante per noi che guardiamo dall'Italia dove io dico purtroppo negli ultimi anni siamo stati abituati a vedere i leader dei partiti come front front runner alle elezioni europee o direttamente candidati o comunque davvero in prima linea negli altri paesi europei e soprattutto nei paesi nei paesi nordici i leader dei partiti durante queste elezioni non sono i veri leader dei partiti cioè in prima linea non ci sono i segretari diciamo i presidenti di questi partiti ma quelli che sono capolista effettivamente alle elezioni europee che poi andranno a vedere andranno al Parlamento europeo e poi ti si andate a cercare trovate come i leader non i leader di partito ma i leader delle elezioni europee e questo secondo me aiuta anche le persone a dire ok io voglio questa persona mi fido di questa persona mi piace questa persona voglio che questa persona vada al Parlamento europeo a rappresentarmi invece che i leader tradizionali diciamo dei partiti i soliti leader che invece poi sappiamo che non andranno al Parlamento europeo e che solitamente tendono a parlare molto più dello stato d'origine che delle politiche europee esattamente e a proposito di leader invece settimana scorsa è successo un piccolo incidente in Danimarca sì poveramente cioè pure io mi sono svegliato con dei messaggi io non l'avevo ancora letto mi sono svegliato con dei messaggi ma sei stato tu perché a quanto pare era andata in un comizio a sostenere una candidata del suo partito può essere allora io ho letto che lei era scesa alla stazione di Norreport e stava andando verso Strovet e l'hanno arrestata l'hanno arrestata scusami l'hanno aggredita nella piazza lì come si chiama Coltorget Coltorget quella dove c'è Silvan in quella piazza lì l'hanno 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 un tizio l'hanno aggredita che ricorda molto quando hanno lasciato la madonnina Brusco con la differenza che almeno da quanto sembrano dalle prime ricostruzioni non era un gesto politicamente motivato o da quanto ho letto ma semplicemente di un tizio che evidentemente si era nel posto sbagliato nel momento sbagliato lui voleva picchiare qualcuno ha visto la stasciura ha detto picchio lei e per sfortuna ha picchiato il primo ministro esatto infatti è stato subito poi preso arrestato insomma poi la polizia ha cercato di capire se erano dei motivi politici perché comunque vabbè rimane che Matt Fredericks non è così popolare ultimamente però questo non giustifica eventuali azioni violente come non giustificavano le statuette Berlusconi ai tempi però vediamo povera me povera la cosa che a me stupisce di questa notizia mi stupisce che sia stata aggredita la prima ministra per essere un'ottizia che colpisce ma mi colpisce che sia stato fatto mentre lei andava da sola da non report a Stroger e così in centro allegramente piena della giornata mentre passeggiava così eh sì perché noi siamo abituati politici che hanno tipo 16 guardate il corno tutto intorno qua cioè lo sappiamo bene che è come funzionano queste parti sì sì infatti infatti le sono arrivati veramente messaggi di solidarietà da tutti i partiti tutti i politici rivendicando la libertà di andare in giro liberamente passeggiare liberamente cioè anche i politici devono poter andare in giro liberamente senza temere di essere aggrediti che è una cosa come dovrebbe essere come dovrebbe essere anche perché adesso si può essere d'accordo o non d'accordo con le sue politiche però non è che fa delle cose così cioè gravi ha le sue idee più o meno condivisibili però addirittura c'è nessuno si merita un cazzotto in faccia forse se lo meritano solo quelli che sono stati guannati dagli Stati Uniti a coloro un cazzottino in faccia magari da tutto perché se è vero che non c'è stata questa ondata di destra e estrema destra nei paesi nordici è però vero che esistono dei movimenti di estrema destra nei paesi nordici gli stessi sveli democraterna lascevano come movimento di estrema destra questi fino a dieci anni andavano in giro con le divise delle SS io non dimentico adesso fanno tutti quelli che fiorellini ma ai tempi vabbè magari era una carnivalata come fa qualche sottosegretario in Italia che si veste da SS e poi dice che no vabbè era una gulierdia abbiamo forse probabilmente abbiamo un senso del divertimento diverso ma effettivamente esiste un certo movimento di estrema destra in tutti i paesi nordici l'episodio più eclatante di questo è probabilmente l'attentato di Utoia nel 2011 in Norvegia commesso da un esponente di estrema destra ma anche oggi tuttora esiste questo movimento un po' in tutta tutta la noda perché si chiama movimento di resistenza nordica la più spese è nordiska Mopstons-Rollersen quel movimento di resistenza nordico che è nato in Svezia a metà degli anni 90 circa ma che poi si è diffuso in tutti i cinque paesi i paesi nordici ed è esplicitamente un movimento neonazista razzista anti-LGBT anti-feminista tutto tutto c'era tutto allora diciamo che ha un suo seguito perché non si può dire che non abbia un suo seguito e questo fa capire che comunque ci sono persone anti-LGBT anti-feministe persino nei paesi nordici però diciamo che al momento è relativamente marginale nel senso che è marginale come lo erano gli sveli democraterna quando andavano in giro con le divise degli esteri nel senso che finché in nord Europa se vuoi ottenere consensi non devi essere così esplicito diciamo nell'encollo che dici magari e infatti è successo degli sveli democraterna si deve che a un certo punto hanno cambiato tutta la loro comunicazione e hanno diciamo votato toni uno leggermente più pacati ma soprattutto un'estetica che non guardasse al passato invece questi sono molto legati al concetto di etnia loro addirittura vogliono un'etnia nordica anzi capisce che cosa voglia dire hanno addirittura anche reddito une persone nel corso degli anni stavo leggendo c'era l'articolo del Guardian che mi avevi mandato sì nel 2016 gli NMR hanno aggredito un uomo di 28 anni a Helsinki perché è un movimento che riguarda tutti e quattro i paesi nordici continentali quindi nasce in Svezia ma ha sede in Danimarca Norvegia e anche Finlandia appunto l'aggressione più eclatante è stata quella a Helsinki e hanno questa diciamo campagna martellante per quanto riguarda sia l'etnia nordica sia in generale dal concetto di pulizia etnica e anche manifesti contro l'immigrazione in generale e quindi diciamo sono così estremisti che addirittura gli Stati Uniti hanno diciamo comunicato che rappresentano una minaccia sì sono stati inseriti nella lista delle organizzazioni terroristiche per quanto riguarda gli Stati Uniti e quindi sono stati anche alcuni esponenti svedesi del movimento svedese sono stati bannati dall'ingresso negli Stati Uniti nella prima volta che accade questo ad esempio già nel 2020 il ramo finlandese di questo movimento è stato sciolto un tribunale ha dichiarato che effettivamente essendo un movimento neonazista quindi antidemocratico non poteva continuare ad operare quindi ha ordinato il suo scegliamento non sapremo come andrà a finire però comunque c'è un sentimento come si dice c'è un sentimento da parte di alcune fette della popolazione che ripeto e riprendo il caso di Utoia come esempio non sono legate a gente cresciuta magari in contesti sociali difficili perché per esempio non mi ricordo come si chiama il mandante che ha fatto la strage di Utoia lui non è cresciuto in un processo sociale difficile addirittura veniva da una famiglia benestante di un partire di Oslo particolarmente ricco quindi non è quello che porta le persone a impazzire così sono diciamo delle ideologie che sposano dovute come succede in Italia dovute spesso a una lettura sbagliata di fonti del passato spesso si ricollegano ai simboli vichinghi o comunque della mitologia nordica proprio per far ricreare questo mito della grande scandinavia del grande nord Europa c'è sempre stato contro le altre etnie brutte e cattive che vengono da fuori e tra l'altro cade anche nella settimana questa appena passata in cui Fanpage ha rilasciato una inchiesta su alcuni movimenti simili giovanili in Italia che quindi si rifanno il passato fascista l'esaltazione della patria tutta una narrazione che va un po' a distorcere quella che è stata effettivamente la storia quindi è la stessa cosa che succede anche lì anche qua in Italia non sono necessariamente soltanto persone diciamo che vengono da situazioni di marginalità anzi no solitamente sono anche persone ben inserite nella società e a me è quello che fa un po' l'impressione che sia gli NMR sia quello che si è in Italia in generale la tendenza i voti che stanno guadagnando i partiti di destra estrema spesso sono di persone di ragazzi maschi molto giovani c'è proprio una tendenza senza dire che brutto che ho giusto sbagliato però a me dispiace diciamo questa lettura sbagliata che viene data e soprattutto che alcuni ragazzi giovani c'è proprio questa proprio divisione netta tra ragazze che votano sempre per sinistra e ragazze che votano sempre più a destra era sempre uscito all'inchiesta forse non è parlato sempre fanpage o non mi ricordo quali però un pochino mi dispiace sì 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 in alcuni paesi questa differenza è molto netta ad esempio negli Stati Uniti è molto netta poi lì c'è tutto un sistema politico diverso quindi fare paragoni tra Stati Uniti e Europa è sempre un po' improprio però lì c'è questa polarizzazione molto forte tra cosa votano gli uomini e cosa votano le donne anche in Europa c'è è più accentuata in certi casi però tendenzialmente non così non così tanto non così tanto e con questo bel rotta di vita positiva allora concludiamo la nostra chiacchiera di oggi diciamo molto politica e vi invitiamo di nuovo uno a farci sapere se anche voi siete stati sorpresi dal risultato delle europee cosa ne pensate ma anche di nuovo a dirci di che quale tema eventualmente vorreste che trattassimo se avete visto delle notizie se avete visto qualcosa come sempre io dico chiacchierate con noi esatto chiacchierate insieme e facciamoci una bella chiacchiera e poi vabbè vi invito di nuovo a iscrivervi al canale youtube noi usciamo col podcast tutti lunedì alle 7 gli altri video escono la domenica per tutti alle 9 oppure prima per gli abbonati ma da quando sono pronti poi appunto abbonateli c'è l'abbonaggio con lì questa 4.99 al mese avete contenuti in anteprima contenuti esclusivi questa settimana dovrebbe finalmente uscire il nuovo episodio di business su copenhagen e seguiti dove si va si va a Karlsberg ah bella bella esatto ah spoiler così non potremmo dirlo era un spoiler l'avevo già detto e allora e basta direi che devo aver fatto tutto il mio momento Giorgio Mastrotto al solito quindi ci vediamo possiamo salutare esatto settimana prossima vediamo settimana prossima esatto ciao ciao ciao